Il 15 maggio è stato presentato in anteprima europea fuori concorso al 71esimo festival di Cannes Solo e Star Wars Story, secondo spin-off dell'universo Star Wars diretto da Ron Howard. Dopo la presentazione ufficiale del film, siamo stati invitati all'esclusivo parte a Temo Solo, chi ci ha lanciato tra le stelle della Croissette, immersi in un'atmosfera avvolta a ricreare alcuni degli scenari del film, dalle foto con Chewbacca a quelle sul Millennium Falcon. La festa è stato un sosseguirsi di brindisi e foto assieme allo stesso cast presente alla serata. Ad esempio, Jonas Otamo, interprete di Chewbacca, ma anche Emilia Clarke nell'inedito ruolo di Kira. Senza dimenticare il protagonista assoluto di questo nuovo Han Solo. Ma anche Donald Glover, che ovviamente ci ha deliziato con un piccolo balletto. Il tutto si è concluso con uno spettacolo pirotecnico direttamente dal mare, con sottofondo le musiche del film. Un'esperienza assolutamente stellare. Il tutto si è concluso con uno spettacolo di Kira. Il tutto si è calato. Sous-titrage Société Radio-Canada